Eccoci, questa volta invece si parte dalla foresta fino ad arrivare alla città di Berghe, che è la seconda città che troviamo più velocemente diciamo. L'altra volta eravamo dall'altra parte e questa volta siamo da questa. Cerchiamola perché precisamente non so il posto. Quindi passiamo tutto in questo percorso, noi siamo qui, usciamo da qui e dobbiamo andare fino a Berghe, alla città e volendo possiamo passare di qua come ho detto però c'è le montagne che non periscano, solamente a ritorno possiamo farlo, ora non si può fare una sega. Quindi speriamo di farlo abbastanza veloce perché tutte le volte mi perdo. Allora, qui c'è le due torri, qui c'è le due torri dovrebbero essere una e due. Comunque dobbiamo andare verso il mare eh. Anche perché questa è la seconda, quella è l'altra entrata, quindi quelle sono una e da dove siamo entrati. E la seconda è qui, in questa, in questa stradina qui, per entrare nella foresta. Quindi proseguiamo a diritto. Comunque dopo l'aggiornamento qualcosa hanno aggiunto, hanno messo dei mostri in più che prima non c'erano, anche abbastanza forti, poi hanno messo più oggetti a giro nella mappa. Un po' più fluido il movimento anche del personaggio. E poi per il resto è tutto uguale. Cioè non carica proprio, come si dice, le texture. Cioè non le carica. Mentre mi ha detto un amico che su PC e Xbox non è che vada perfettamente, però almeno le vedi più definiti. Per esempio l'albero qui sembra, cioè, sembra che l'hanno tirato un secchio di vernice. E queste rocce è uguale. Non si carica le texture su PS4. Questa è una cosa abbastanza brutta. Quindi una volta postate le due torri, apriamo un attimo la app, anche se non so dove cavolo siamo. Comunque noi dobbiamo andare verso il fiume. Andiamo verso il mare e siamo, diciamo, a posto. Qui riconosciamo il tronco gigante, la corteccia di tronco. Poi se chiedete, se vi chiedete perché ho questa lanterna qui attaccata così, è perché lo zaino me la mette le... È un altro tipo di zaino. Ogni zaino ha dei posti diversi dove mettere la lanterna. Quindi, questo è il paesaggio da dove siamo arrivati. Laggiù invece c'è, come si chiama, non so se è questo, no. Dovebbe essere questo, credo. Il tempio della Calabra dei Venti, ok. Quindi qui siamo a sud, noi dobbiamo andare a est. Se vedete in alto sulla mappa... In alto sulla bussola dello schermo è est. Dobbiamo andare verso est. L'unico riferimento che abbiamo è la bussola. Per andare a casa dobbiamo andare verso nord-ovest. Quindi in nord-ovest torniamo a casa. Qui c'è dei nemici, ma li lascio perdere, se no mi fanno fuori. Non ho proprio voglia di stare a combattere ora. Ecco, laggiù si intravede già il mare. Vedete il fiume, il mare. E da qui passiamo... Questo lo vedete? Guarda, dai, faccio vedere. Dovrebbe essere questo. Questo dovrebbe essere. Spero. Quindi se... Se noi passiamo all'ora... Se si è questo... Se questo... Questo di qua che cos'è? Ah, è questo. Quindi noi dobbiamo andare da questa parte. Tanto l'importante è non sentire la mia voce. L'importante è vedere cosa bisogna fare. Cioè, della mia voce... Se sono analfabeta lasciate perdere. Allora. Qui... E' quell'isolotto. Però io lo salterei a andare da questa parte. Ah, sì, no. Ah, sei quasi consumato. L'avevo acceso la lanterna, ecco. Ecco, comunque un altro... Non so se è un bug, ma... Non so come si fa a riempire la lanterna. Cioè, dice... C'è l'olio, ma io l'olio ce lo metto. E me lo fa spostare da una tasca all'altra. O nello zaino. Cioè, quindi non me lo fa mettere l'olio. Nella lanterna mi tocca buttarla via. Cioè, venderla e... E comprane un'altra. Questa è un po' la rottura. Cioè, perché questa lanterna non è quella normale. Quella è un po' più... Un po' più... Un po' meglio, via. Quella che illumina più... Questa lanterna qui illumina un'area molto più vasta. Quindi... Dovremmo essere... Ecco qui sul pontile. Lo passiamo. Comunque la strada è... Una volta imparata ci siamo, dai. Qui c'è da Picconà. Alla Monster, eh? Ci castrà nulla, però. Alla Monster. Quindi... Passiamo questo punticello. Ora io non sono sicuro, ma... Credo... Credo che sia qui. Quindi dobbiamo andare verso est. E quindi la strada sarà questa. Debbia essere proprio questo, sì. Forse ho fatto la strada più lunga. Adesso... Non lo so. Ora si guarda. È importante arriva a destinazione. Allora. Qui c'è dei pesci. Ce l'ho? E l'arpione? No, non ce l'ho. Non sono scollato a caso. O me l'hanno rubato. La città che me l'hanno rubato. Sì, perché quando... Eh... Ci uccidono, eh... Ogni tanto ci lavano degli oggetti. Oggetti a caso. Quindi la meglio cosa è... Posare tutti gli oggetti a casa. Cioè... Posare tutti gli oggetti, se è a posto. Ecco, qui c'è un cartello. Leggi. Nord, città di Berghia. Nord, est, palude. Quindi nord, dov'è? Quindi non è rest, ho sbagliato. Nord. Comunque, visto che ci sono cartelle, almeno... Un piccolo riferimento c'è. Qui c'è la piccola. Ho già fatto. No, qui ho già picconato. Ecco, questo è il nord. Vedo la città. Quindi abbiamo fatto abbastanza veloce. Dai. E cosa ci facciamo nella città? Nella città ci sono delle missioni. E poi ci sono altri mercanti. C'è anche un'abitazione da comprare. Io l'ho già comprata. Costa 500 monete d'argento. Ma i soldi si fanno abbastanza velocemente. Anche perché quando dormiamo un giorno intero nell'ambiente ritornano tutti gli oggetti e alcuni nemici. Non sempre, ma ritornano. Quindi basta riuscire a entrare, riuscire a entrare. Quindi vediamo sulla mappa in alto, sulla bussola, nord. Quindi noi siamo entrati e siamo qua. Dovremmo essere qui. No? Sì, sì, dovremmo essere proprio qui. Questa è la città di Berghe. Ora ve la faccio vedere. Eccoci. Siamo arrivati in una città. Quindi questa è una delle tre entrate. Sono tre entrate via Berghe. Lasciamo appostati in questo percorso. Qui abbiamo l'addestratore. Che ci insegnerà delle abilità. Faccio vedere. Voglio addestrarmi con te. Come possiamo vedere qui ci sono delle abilità. Ci sono alcune che sono passive. Cioè ti rimangano. Ma non le vediamo nel nostro equipaggiamento. Le vediamo dal nostro addestratore. Per esempio questa che ho preso è passiva. Anche se non c'è scritto. Può agganciare nemici a distanze maggiori quando usi l'arco. Vedi? Sbloccato. Questa è passiva. Diciamo. Poi abbiamo un'altra passiva. Questa. Aumenta di 40 la tua salute massima. Io non so se è infinito. Comunque. No. Mi sa che forse una volta e basta. Però ci vuole 500 monete d'argento. Insomma. Abbastanza. Poi abbiamo balzo del predatore. Colpo perforante. Questo è sempre. Richiede arco. Sempre l'arco. Questo. Arma da mischia. Però ti serve il beneficio rabbia. Il beneficio rabbia è questo. No. Questo è il lira. Vabbè. Comunque. Ci sono delle abilità da sbloccare con le monete d'argento. Chi troviamo? Qui ci sono dei mercanti. E in questa. Qui c'è l'acqua potabile. Quindi se. Ora la raccolgo. La raccolgo. Me la bevo anche perché sto morendo di sete. Quindi da questa entrata possiamo trovare subito anche la casa. Che è questa. Questa è la casa. Però non vi ci fa entrare all'inizio. E neanche potete comprarla. Perché dovete fare la missione di Rissa. Qua giù nella città di Berga. Una volta fatta. Qui spunterà un commerciante. E potete acquistarla per 500 monete d'argento. Ora vi faccio vedere dentro la casa un secondo. Qui c'è il baule. Ci ho messo un po' di armi. Un po' di oggetti. Sai tante volte viene qualcuno. Poi c'è un altro baule a casa. A Cerzo. Quindi questi si possono vendere. I zaffiri piccoli. Che ti danno un buon prezzo. 20 monete d'argento. Quindi lo lasciate 32. Anche perché pesano le monete. E poi se perdete. Cioè se morite. A volte ve le toglie. Quindi è meglio lasciarla a casa. Questa. Una pergamena. E io l'ho già imparata. Quindi se qualcuno le serve. E gioca con me. Ne la passo tranquillamente. Questi sono tutti. Anzi cibi. Le devo prendere. Se no vanno a male. Vanno proprio a male. Questa è la briochina. Scarto alimentare non va a male. Queste invece sono delle armi. Allora questa è la sciabola. E non ne aveva tanto. Ma questa è abbastanza forte. Perché c'ha. 12 di danni. Più. Ha. Un elemento che. Non c'è scritto. Quindi non lo so. Penso sia confusione. O. Un elemento del genere. Però poi abbiamo impatto 20. E velocità 1.2. Costo mana meno 10. Abbastanza buona. Vabbè. Questa è una mazza normale. Questo invece è uno scudo antica legione. È più forte degli scudi normali. Vabbè. Piccone. E altri piccoli oggetti. Quindi posiamo tutto quello che abbiamo trovato. Per esempio ho trovato questo. Ho preso a 7. Lo poso. L'arco mi serve. E queste le lascio. Io poso tutto quello che non ammarcisce. Quello che invece che ammarcisce me lo tengo io. Legno petrificato lo poso. Olio denso. Vedete. Liquid non fiammabili. Lo usate per riempire lanterne. O realizzare armi incendiarie. Ecco. Per riempire lanterne. Però a me non me lo fa riempire. Quindi se lo sapete come si fa. Me lo scrivete in un commento. Mi fate un favore. Perché non riesco a capire come si fa a riempire le lanterne. Poi questo rubino medio. Questo vale 60. Di moneta d'argento. E va venduto perché non serve altro. E le troviamo piccolando. Cioè non è difficile. Non bisogna uccidere nessuno. Vabbè. Il sale me lo tengo. Frammenti le poso. La pentola può essere utile. In viaggio. E 16 me le poso. Tutte. E così arriviamo a cinquantina. Quanto siamo? 48. Sì vabbè. Da cinquantina. Quindi. Una volta comprato la casa. Potete dormire qui. Cucinare. Posare gli oggetti. Io ve lo consiglio assolutamente. Cioè. La prima cosa che fate appena. Entrate nella città di Berghia. E parlare con tutti. Prendere tutti gli oggetti che trovate a giro nella città. E poi dopo. Fare la missione. O le missioni. Sono una o due. Ma sono semplici. Cioè. Roba da due o tre ore massimo. Niente di impegnativo. E comprate la casa. Per 500 monete di argento. Poi. Se c'è un metodo per averla gratis. Se o pagare la di meno. Questo non lo so. Perché. C'è un mio amico. Ha detto che. All'inizio. Per pagare il debito. Del faro. C'è un modo. Per non pagarlo. Via. Però. Io ho fatto quello. Di dove trovo lo scudo. Per fare le 70 monete di argento. E qualche oggetto. Perché. Se non paghi. È meglio. Lo scudo te lo tieni. Capito. E. E buonanotte. O se no. Lo vendi. Ti tiene i soldi. Comunque. Questa era la strada. Per la città di Berg. Dalla foresta. E commentate. Così abbiamo dialogo. Se volete. Giocare insieme a me. O altre persone. Ho creato una comunità. Su PS4. Si chiama. Outward RPG Open World. Entrate lì. Iscrivete. E qualcuno c'è. Che vi risponde. Di sicuro. Iscrivetevi al canale. Così da. Da motivarmi anche me. A farti video. Commentate. Più che altri. Perché. Mi interessa anche il commento. Sinceramente. Più commentate. Meglio è. Quindi. Ci sentiamo alla prossima. Ciao ragazzi.